La giornata nazionale delle piccole e medie imprese, studenti protagonisti, la formazione è il primo driver di sviluppo e rappresenta l'investimento più importante. La mission trasmettere ai giovani studenti il valore del fare impresa e del lavoro. Alessandro Addari, presidente piccola industria, Confindustria, Chieti Pescara. Il tema di questa edizione è la sostenibilità. Esatto, la sostenibilità che crea lavoro, che crea sviluppo dei territori. Quindi un tema cruciale sempre più per le nostre imprese e appunto per i giovani che devono affrontare da protagonisti il mondo del lavoro. Tra l'altro coinvolti gli studenti, 60 con tre scuole e altrettante aziende. Assolutamente sì, l'obiettivo di Confindustria, della piccola industria è rendere gli studenti davvero protagonisti. Quindi da uditori a chi con la propria creatività, con la capacità di lavorare in gruppo e con la competenza digitale riesce poi ad elaborare soluzioni. Per quest'anno la sfida dal punto di vista delle imprese è stata raccolta dalla Gegel, quindi nell'ambito alimentare. Abbiamo cercato anche di alternare i settori merceologici. La vasto arredo, nell'ambito dell'arredo appunto, e la confezione Mario De Cecco nell'ambito della moda. A proposito, i giovani sono sempre più ricettivi, hanno quell'intuito diverso rispetto ai giovani magari di una volta. Possiamo dire questo senza tema di essere smentiti? Assolutamente sì e ci sorprendono sempre, anche perché noi volutamente abbiamo dato degli input molto vaghi e i ragazzi poi sono andati a raccogliere le informazioni sui social, hanno costruito dei video. Quindi la dimostrazione è che se giustamente motivati e stimolati riescono a fare grandi cose. Oltre agli attestati a tutti i partecipanti, ma poi tre gruppi vincitori avranno un premio, una sorpresa. Innanzitutto la possibilità di visitare concretamente le aziende. E poi un percorso formativo gratuito che abbiamo chiamato proprio in qualche modo Saper comunicare che svolta. In questo modo loro avranno la possibilità, tra l'altro con una docente d'eccezione, perché abbiamo Elisa Maiolo, docente universitario, coach, nonché psicologa del lavoro, che offrirà proprio a tutti i gruppi vincitori questo percorso gratuito, proprio per fargli capire, far capire ai ragazzi quanto la comunicazione, in particolare interpersonale, possa davvero essere una svolta per loro e per il loro futuro.